Torna a Napoli la ministra dell'interno Luciana Lamorgese, lo fa per sottoscrivere a mezzogiorno in prefettura con il presidente della regione Vincenzo De Luca il protocollo d'intesa per l'attivazione del numero unico europeo per le chiamate d'emergenza. Secondo il modello della centrale unica di risposta, chiamando il 112, sarà possibile richiedere l'intervento di forze di polizia, vigili del fuoco, strutture sanitarie e l'assistenza in mare. L'incontro sarà anche l'occasione per fare il punto sull'attuazione del patto per la sicurezza firmato a gennaio. Anche perché Napoli e provincia sono attraversati da più forti tensioni criminali, delitti, stese, raid e intimidazioni scuotono da mesi l'area nord, Arzano, fratta minore e fratta maggiore, attraversati da un conflitto tra il clan cristiano Mormile e la cosca dei Monfregolo. A Napoli invece la strategia espansionistica dei Mazzarella e dei loro alleati crea pericolose frizioni con l'alleanza di Secondigliano e gemone in tante aree della città. Mercoledì in Parlamento, rispondendo al Question Time, la Morgese ha spiegato che sono in vista consistenti integrazioni di personale delle forze di polizia, nuovi agenti da destinare al contrasto alla criminalità organizzata e al controllo del territorio. Altro tema nell'agenda della Ministra, le misure da adottare per evitare le infiltrazioni della camorra nella gestione e realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Fronte caldo su cui il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha chiesto un'azione di coordinamento forte da parte del Ministero dell'Interno. Dopo l'incontro in Prefettura, la Morgese interverrà nel primo pomeriggio alla stazione marittima, al primo forum sui beni confiscati alle mafie. Grazie.